Pronti ragazzi, alleggete sul monitor quando si dice ready Allora, qui è la sua, qui è la sua Paggiannolo, qui è la sua Forza squadra, vai! Vai, 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 vai! Forza squadra uno si prepara, vai! Vai, vai, vai! Forza squadra! Forza squadra! che devi far succedere grazie Arrivato! 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 Vai che stai avanti, vai che stai avanti, vai che stai avanti, vai che stai avanti, salto agli occhi, così da via, così da via. Vai che stai avanti, vai che stai avanti, vai che stai avanti. Vai che stai avanti, vai che stai avanti, vai che stai avanti. Il responsabile tecnico Alberto Parodi. In mezzo al pubblico abbiamo un allenatore, abbiamo uno dei migliori collaboratori che ha avuto morale nella storia, Pantorino. Abbiamo uno dei sponsor più importanti che abbiamo. Allora, distinto Alessio. Matteo. Poi, Ambra. Parodi, Alessio. Poi, Ambra. Grazie. 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 Grazie.